Lunedì cade il sesto anniversario del passaggio sulla Sardegna centro-orientale del ciclone Clopatra che provocò 19 morti e danni incalcolabili. A sei anni di distanza, qual è la situazione? Tanto il ricordo alle vittime che è della cicatrice indelebile. La situazione è che abbiamo avuto dal passaggio del ciclone un miliardo di euro di danni, infrastrutture pubbliche, private, cicli economici, lesionati, che oggi sono state nel complesso parzialmente recuperate. Quindi una lettura in chiaro-oscuro. Cosa vuol dire? Molte delle opere in questi anni che sono state lesionate, parlo delle infrastrutture, sono state chiaramente ripristinate, ma altre attendono, le comunità nuresi ne sanno qualcosa, di essere ripristinate e messe in efficienza. Ugualmente molte opere per quanto riguarda la mitigazione del dissesto idrogeologico sono state realizzate, parlo soprattutto di argini e identificazione delle aree a rischio, ma altri settori delle aree colpite attendono che o si ponga la prima pietra delle opere di mitigazione o che si completino. Mi riferisco a molte aree dell'Uristanese, mi riferisco anche alla stessa Gallura. Abbiamo oggi certamente nuovi strumenti, nuovi metodi di lettura delle criticità e sensibilità del territorio, il piano di gestione del rischio alluvioni. Però anche questo chiediamo che sia integrato e implementato con un aggiornato repertorio delle frane, fermo da 15 anni a questa parte. Quindi una corretta gestione e manutenzione del territorio ad oggi, in sintesi, che comunque deve anche passare per un'attenta politica di protezione civile. Si sta lavorando anche in questo senso, va bene così, però io credo che bisogna investire ancora di più, non soltanto coinvolgendo per esempio gli operatori del settore, ma anche la cittadinanza, le scuole, tutte la comunità, perché quando disgraziatamente avviene un fenomeno, una calamità come quella che è stata il ciclone Chilopatra, tutti noi, anche come singoli cittadini, dobbiamo conoscere le norme di autoprotezione per mettere in sicurezza noi stessi e chi ci sta vicino.